... ... ... Ditemi un po', ieri sera voi siete venuti all'Aricain con un programma? Dovemmo dire una cosa personale a Don Gitto Cardone, un'informazione molto importante che noi valutiamo intorno ai... ...30.000 dollari, pensa che ci darà? Ma... ...se l'informazione vale quella cifra... Per questo ne vale pure di più. Allora non c'è problema, ...per Gitto Cardone farvi un assegno di 30.000 dollari è come sfutare fuori dalla finestra. Noi invece siamo quelli che passiamo sotto al balcone e ci pigliamo la sfutazzata in testa. Sentiamo, in che consiste questa informazione? Eh no, 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 eh, ti piacerebbe povera coca, che sta a fare la paracula con noi? Nico, ma come ti permette di parlare così? Eh no, capito, questa è la paracula, sta a fare la paracula e gli devo dire che fa la paracula. È la paracula, non la vedi che è una paracula? Ma tu ti sbagli, Fiona è una ragazza per bene, è tutta acqua e sapone. Ma che acqua e sapone, sì, questo è whisky e scopate.